Bambini protagonisti, i due volti della cronaca. E questo il titolo del convegno di respiro internazionale che si terrà venerdì 6 settembre nel Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro Urbino a partire dalle 17.30. Un momento organizzato dall'Ordine dei giornalisti delle Marche in collaborazione con Unicef che metterà a confronto giornalisti europei per cercare strade condivise sulle rispettive norme deontologiche relative ad un tema delicato come la tutela dei diritti dei minori a mezzo stampa. Un momento soprattutto di confronto, cioè inutile parlarci a volte dentro casa, bisogna avere confronto anche con altre realtà, in questo caso con le realtà europee. Quindi vogliamo vedere come gli altri paesi, altri giornalisti all'altra informazione si occupa dei minori quando sono coinvolti in fatti di cronaca. Quindi credo che sia un confronto utile soprattutto per arrivare ad una carta europea sulla tutela dei minori, cosa che l'Ordine Nazionale dei giornalisti aveva già iniziato a fare con una risoluzione che è comunque già all'attenzione da anni del Parlamento europeo. L'Undicef difende tutti i diritti dei bambini tra i quali c'è il diritto alla dignità e al nome del bambino. Ecco la difesa che grazie a Franco questo convegno che è molto interessante perché affronta un argomento che è sempre stato nella storia, però adesso è sempre più più contingente. Ecco. La prima volta che avviene un confronto in Italia con giornalisti stranieri, in questo caso ci sono giornalisti che sono corrispondenti in Italia dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Olanda, da Bulgaria e Albania. Quindi credo che appunto il confronto serva per arricchire, per trovare anche una formula possibilmente unitaria nell'ambito dell'informazione. È importante come tema perché è un tema in costante evoluzione, quindi è importante anche una nuova attenzione, soprattutto un confronto tra i professionisti e che questo avvenga a livello europeo perché è un tema che cambia nel tempo, nel senso che cambiano le sensibilità e anche giustamente, così come cambiano le normative, a cui poi bisogna sempre far corrispondere un po' la realtà e cambia nello spazio perché anche i differenti paesi non hanno lo stesso approccio, non hanno la stessa sensibilità, quindi arrivare a una visione quantomeno europea, oltre che necessariamente mondiale, ma intanto europea del tema importante e cambia anche nei supporti perché chiaramente un conto è la regolamentazione riguardante i media tradizionali, carta stampata, televisione, dove già non è sempre facile fare rispettare delle policy, un conto è con tutto l'avvento del digitale, dei diversi modi e tempi di racconto e chiaramente questo diventa ancora più complesso da ordinare e da fare rispettare al di là di quello che è la base del principio etico che sta nella professione e anche dell'approccio a volte anche di chi legge o di chi cerca le notizie, magari più di un certo tipo o di un altro. La tutela dei minori si deve esercitare attraverso una protezione dei minori, ma senza nasconderli, non dobbiamo eliminarli dall'informazione ma solamente proteggerli, quindi proteggerli quando ci sono delle ricadute negative, delle conseguenze negative nei confronti dello sviluppo del minore.